Per chi non dovesse conoscere Massimiliano Frassi, diciamo che è un paladino dei giorni nostri alla difesa dei più beboli, i bambini. La sua associazione con sede a Gorle è veramente un paladino. La battaglia è sempre più difficile, l'associazione esiste ormai da circa 15 anni, siamo ben radicati sul territorio anche se l'operatività è a livello nazionale. I bimbi che seguiamo sono bimbi sempre più piccoli, sempre più indifesi, sempre meno creduti e dall'altra parte invece abbiamo soggetti paradossalmente sempre più protetti che avranno magari la conclusione di un processo dopo 10 anni e in quei 10 anni restano a stretto contatto con i nostri figli. Si parla di pedofilia e di soprosi, abusi sui propri bimbi. Qui nella nostra zona com'è la situazione? Non esiste purtroppo un'area, una zona felice, se così fosse credo che ci trasferiremmo tutti quanti a vivere lì portando lì i nostri figli. La pedofilia io la paragono al cancro che quando tocca un corpo in quel corpo tende a diffondersi e ad intaccare tutte le parti vitali. Per cui anche la nostra zona purtroppo non è immune, abbiamo avuto casi eclatanti di cui si è parlato sulla stampa e altri casi che invece non hanno avuto misteriosamente alcun tipo di visibilità. Però i casi ci sono, sono tanti e sono tanti bambini che hanno subito, che subiscono abusi magari anche in questo momento, magari ci stanno guardando il messaggio che va fatto passare loro e che non si devono vergognare di quanto sta loro capitando, che non devono avere dei segreti che li tengono bloccati tra le fauci di questi pseudo orchi e che devono chiedere aiuto. Poi dall'altra parte ci rivolgiamo agli adulti e diciamo quando questi bimbi l'aiuto ve lo chiedono agite e fate qualcosa. Ci vuole un coraggio sempre più necessario se vogliamo restituire a questi bimbi l'infanzia che appartiene a loro e poi un'età adulta normale, serena come quella di noi tutti. Io penso che gli abusi fatti in famiglia, in casbah, ci sono anche queste realtà purtroppo, sono molto più difficili da individuare. Ma tante famiglie affidano i bambini a delle strutture, strutture che dovrebbero essere non protette ma super protette. Come può una famiglia, una mamma, un genitore vedere o cercare di capire che sta succedendo qualcosa? Guarda faccio un passo indietro e ricitando quanto appena detto ti dico che appunto avendo toccato ogni parte di questa società la pedofilia si è andata ad infrattare anche in quelle realtà dove pensavamo di lasciare tranquilli i bambini. E quindi è vero che ci sono milioni di oratori bellissimi e sereni ma ci sono stati anche, ci sono tantissimi oratori dove i bimbi hanno subito abusi. Milioni di scuole o di asili fantastici ma altre tante realtà dove purtroppo il pedofilo con grande capacità si è introdotto per stare a contatto con i bambini. Noi quando facciamo i corsi di formazione io dico sempre una battuta dicendo ragazzi non troveremo mai il pedofilo che va a lavorare in una casa di riposo e dietro la battuta apparentemente sciocca c'è un'amara realtà. Il pedofilo è un pedofilo che cerca un lavoro che lo porti anche a contatto stretto con i bambini perché lì può operare e può agire soprattutto indisturbato. Come possiamo capire, come possiamo muoverci è spesso la domanda che ci viene fatta e a cui la risposta nella brevità di un'intervista è dialoghiamo con i nostri figli, parliamo con loro, facciamo attenzione anche a quei minimi cambiamenti che il loro comportamento, il loro modo di essere ci sta raccontando che stanno vivendo un disagio. Poi andremo a dare una voce e un nome a quel disagio, può essere un problema normalissimo, può essere invece che quel bimbo subisce abusi ed è minacciato affinché non parli. Però facciamo loro presente che noi ci saremo sempre, che nessun adulto li può disturbare pensando di farla franca perché noi interveniamo. Se questa cosa fosse passata ai quasi 2000 bambini che nel 2012 si sono rivolti all'associazione, credimi non darei un numero così elevato ma parlerei probabilmente di poche decine. In realtà questa cosa non è mai successa, non è mai successa perché forse non c'era informazione, perché non se ne poteva parlare così liberamente. Oggi però le cose devono cambiare, non possiamo più arroccarci dietro il fatto che la gente non sa, che è ignorante, nel senso appunto della non conoscenza. Oggi si sa chi è il pedofilo, si sa come agisce e allora sta a noi decidere se proteggere o meno i nostri figli.